Però noi giustamente non paghi di averlo già incitato al suo semplice e bellissima mansione riproponiamo anche a voi signori e visionari di Youtube ciò che realmente succede questa è la realtà del giorno d'oggi c'è anche l'intervista la donna si è emancipata e questa è ormai la situazione l'uomo è diventato semplicemente un casalingo con i guanti bianchi con i guanti bianchi perché ovviamente si deve sempre operare melanzi guarda pure il bello carino sbatti di tanto tanto intensamente con il corpo e con la mente come se io fossi qui sbatti di con quei ganti biancomare che mi sanno anche incantare in un pomeriggio sbatti di con la forza di un amante vediamo la fonte dello sbattimento bacia su tutta la mia pelle le stelle io non ho fatto molto che mi sono sbattato la pelle e ci dice sbatti di davo da do davo dai davo 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 dai davo davo così dovresti uscire l'acqua calda no?